Inizia una settimana importante per la Samb, domenica prossima a Riviera delle Palme i Rossoblu affronteranno il Potenza in una sfida decisiva per le sorti del campionato. I giocatori questa settimana incontreranno i tifosi al Globo Sport Abbigliamento di Grotta Mare per invitarli personalmente allo stadio regalando a tutti i presenti dei poster della squadra autografati. Ogni giorno da martedì a venerdì alcuni atleti Rossoblu saranno presenti nel punto vendita del main sponsor della Samb dalle 17 alle 19. A noi c'è stata fatta questa proposta che già era avvenuta nell'anno precedente, l'anno passato ci è piaciuta anche perché porta sempre più le famiglie vicino allo sport e allo stadio per dare un calcio più pulito. Abbiamo dato la disponibilità dei locali e fa piacere anche a noi essere collegati sempre di più alla squadra, essere più vicini. È di oggi anche la notizia che domenica prossima i ragazzi delle scuole elementari e medie potranno entrare gratuitamente a Riviera, mentre i loro accompagnatori pagheranno solamente 5 euro. Intanto stamattina i giocatori Rossoblu si sono recati nelle scuole di Martinsicuro per salutare gli alunni ed invitarli al match contro il Potenza, una gara che si annuncia decisiva per la Samb. Per questo la dirigenza Rossoblu ha pensato tali iniziative al fine di avvicinare ancora di più la tiposeria alla squadra e consentire una maggiore partecipazione possibile al match di domenica. Si annuncia insomma un Riviera delle Palme strapieno in una gara cruciale per i ragazzi di Mister Ugolotti.